Essere italiano è molto cool. Io vorrei essere italiana, sono tedesca. Mi sento più italiano fuori dall'Italia che qui. Essere italiani è il titolo del ciclo di incontri coordinati da Luciano Violante al meeting 2018, con tanti protagonisti della vita economica e culturale del paese. Tanti modi, molti diversi di essere italiani. Io qui aprirò il mio intervento oggi con dei brani, dei frammenti, di due canzoni dell'83. Uno di Totò Cotugno che dice che è orgoglioso di essere italiano e uno di Gaber che invece dice che non mi sento italiano. Però per fortuna lo sono, dice alla fine. Quindi sono due modi diversi, perché l'Italia è il regno del molteplice. Una diversità che è un valore nell'identità. Trovare quello che unisce e quello che rispetta. Per usare una parola d'ordine che è stata usata rovesciandola anni fa dal meeting, l'altro è un male per me. Questo sembra essere la chiave di questo suprematismo. E bisogna invece rovesciarlo. E poi un occhio alle nuove generazioni, i nuovi italiani. C'è da superare degli ostacoli, questo senza nessuna condanna. Bisogna discutere con chi la pensa diversamente e cercare di convincere. La politica seria è arte della persuasione, non arte dell'imposizione. Bisogna persuadere chi la pensa diversamente. Magari persuadere anche noi stessi se ci sono degli errori che facciamo quando affrontiamo questo tema. Ma noi siamo molto tutti di questo.